Lazio, i titolari vincono, le riserve latitano Se la prima partita di Europa League doveva aiutare le riserve della Lazio a brillare e ad instillare qualche dubbio nelle gerarchie di Inzaghi, questo non è avvenuto. Anzi, dalla trasferta olandese le scelte del tecnico piacentino risultano rafforzate, poiché, ancora una volta, la gara è stata decisa dagli ingressi dei titolarissimi, Senad Lulic, Sergei Milinkovic Savic e soprattutto Ciro Immobile. Le difficoltà laziali si sono palesate soprattutto in difesa dove Rasika è apparso imprendibile per gran parte del match, diventando la vera spina nel fianco di Inzaghi. Il match contro gli olandesi. Infatti, era loccasione per molti giocatori di farsi vedere e provare a conquistare un posto da titolare, ma molti hanno fallito, a partire da Caicedo. Lattaccante ecuadoregno non è riuscito ad incidere nel match, nonostante il bellassist di tacco per il 2-2, apparendo non ancora pronto per brillare in Europa. Peggio di lui, però, hanno fatto i difensori e gli esterni del 3-5-2 di Inzaghi. Di Lukaku abbiamo già detto, ma non ha certo brillato il collega sullaltra fascia, Adam Maruzic. Il serbo è stato schierato titolare per la prima volta in stagione e ha sofferto molto sulla propria fascia di competenza, peccando inoltre in spinta offensiva. Suo è lerrore sul gol del momentaneo 2-1, quando si perde l'insenne il più classico degli inserimenti sul secondo palo, ma in linea generale è apparsus in troppo fermo e lento rispetto al suo avversario di giornata, mettendo in crisi anche il centrale di sinistra Bastos. L'angolano sta sfruttando l'assenza di Wallach per mettersi in mostra, ma dopo la buona prestazione fatta contro il Milan, ieri sera ha toppato alla grande. Il 25enne infatti provoca L1-0 olandese perdendosi Tim Mataves e rischia di propiziare il 3-3 lasciando Castagnois libero di colpire di testa a pochi passi dalla porta. Lo stesso discorso vale per Luis Felipe che prende un giallo per una leggerezza dettata dall'inesperienza e poi si fa saltare facilmente in occasione dell'1-0. Insomma, se Inzaghi può stare tranquillo sul fronte offensivo, soprattutto con i rientri di Felipe Anderson e Nani, non può dormire sonni tranquilli sulle fasce, dove i titolari sembrano insostituibili ed in difesa dove la cessione di Oedta ha lasciato un buco abbastanza grosso nella coperta bianco-celeste. Vaston e Luis Felipe non sono ancora pronti per una maglia da titolare, il rientro di Wallace metterà una pezza, ma a gennaio serve un innesto di qualità per dare respiro ai tre titolari. A presto! A presto!